Cari amici salve e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento dedicato alla nostra scuola stoica. Oggi ci occuperemo di un nuovo autore, tra virgolette ovviamente, e cioè di Epiteto. Epiteto è stato uno dei più grandi maestri dello stoicismo, ma con una piccola caratteristica. A differenza di Marco Aurelio, che era un imperatore, o di Seneca, che era un grande uomo di stato, pensate un po', Epiteto era uno schiavo, uno schiavo che dopo essere stato liberato, appunto, è diventato un gran maestro spirituale e filosofico. Questo è indicare anche il fatto che lo stoicismo è potenzialmente per tutti e che si è elevati all'interno e non a livello sociale, quindi dal valore materiale che abbiamo, che la società ci dona o in cui ci ritroviamo. Dunque, il passo che andremo a leggere e commentare riguarda il turbamento dell'animo umano, quindi un passo molto importante. Diceva Epiteto Ecco, questo passo, tratto dal famoso manuale di Epiteto, racchiude già un principio fondamentale ed importantissimo, dello stoicismo, e c'è ciò che ci porta a soffrire, a stare male, non è mai l'evento esterno di per sé, ma è come noi lo giudichiamo. Infatti, continua Epiteto. Per esempio, la morte non ha nulla di temibile, altrimenti sarebbe sembrata tale anche a Socrate. Ecco, per far comprendere questo concetto, Epiteto porta l'esempio massimo dell'evento esterno, che è la morte. Forse nulla più della morte può turbare il nostro animo. Ed ecco dice, nemmeno la morte ha nulla di temibile, perché fa parte della natura, fa parte del grande ordine delle cose, siamo noi che non la comprendiamo. Infatti, un grande pensatore, un grande uomo, una persona elevata come Socrate, non la temeva. Questo ad indicare che, appunto, non c'è nulla da temere di fronte alla morte. Ma, continua Epiteto, è il giudizio che noi formuliamo sulla morte, cioè che essa è temibile, ad essere temibile nella morte. Ecco, dice, quindi è proprio il giudizio che ci porta ad avere paura della morte, ad essere il problema, e non la morte in sé. Continua. Ecco, qui dice un concetto molto importante che oggi è andato completamente perduto, ed è nello stesso momento molto comune. Quando ci sentiamo male, quando qualcosa va storto nella nostra esistenza, sempre va storto, tra virgolette, cioè che noi percepiamo come negativa e quindi che ci turba, attribuiamo sempre il nostro male, la colpa a qualcuno all'esterno, a qualcosa o a un evento esterno. Ebbene, dice, questo accade quando non siamo ancora educati, quando non siamo spiritualmente educati. E, continua, è proprio di chi è all'inizio della propria educazione attribuirne la responsabilità a se stessi. Ma, dice Epiteto, attenzione, anche quando diciamo è colpa mia, ho sbagliato io, è responsabilità mia, siamo sempre nell'errore, è perché ancora non abbiamo compiuto la vera e giusta educazione, non siamo arrivati alla maturazione spirituale. E infatti è sempre, fa notare Epiteto, è colui che inizia a cercare di evolvere interiormente, attribuisce sempre la colpa a se stesso, quando è nella fase evolutiva. E, continua ancora, è proprio di chi ha completato la propria educazione non attribuirne la responsabilità né ad altri né a se stesso. Ecco, qui tocca il punto appunto dell'apice del ragionamento e dice quando si giunge a maturazione gli eventi esterni vengono accettati, si accettano, si prendono per quelli che sono, si comprendono, perché vengono inseriti dalla nostra mente, dalla nostra anima, dal nostro senso di percezione dell'esistenza all'interno di un grande tutto, all'interno di un qualcosa di enorme che si muove attraverso il famoso soffio vitale, attraverso lo spirito, l'intelligenza superiore che tutto muove e quindi il saggio, la persona che è arrivata ad educazione, ha compiuto finalmente la propria educazione spirituale, ecco, comprende tutto ciò e lo accetta. Bene, cari amici, io spero che questo nuovo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a condividere questo nostro commento con le persone a cui tenete e di iscrivervi ovviamente al canale, sia al canale YouTube Scuola Stoica che alla pagina Facebook Scuola Stoica Michele Putrino. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!